Una immagine mi ha toccato Nelle affermazioni che abbiamo letto e ascoltato ieri Le affermazioni di Papa Francesco nella Catechesi sulla speranza Dice che il Signore, che Dio ha affidato ad ogni uomo una luce Una luce che brilla E che noi dobbiamo saper custodire questa luce Ecco, la speranza è come un lume Noi siamo portatori di speranza quando siamo come un lume Cioè quando siamo capaci di essere luce Per noi stessi e per gli altri Di illuminare le tenebre nostre E così facendo illuminare le tenebre degli altri Ma questa capacità di custodire questa speranza che è luce Ci viene da alcuni atteggiamenti interiori Che noi dobbiamo coltivare e dobbiamo vivere Anzitutto questa luce che ci viene consegnata dal Signore Quando noi nasciamo non è la nostra luce Non è la luce della nostra intelligenza Oppure il lume della nostra sapienza O il lume delle opere che noi siamo capaci di fare Oppure il lume delle nostre belle idee Del nostro saper parlare Della nostra arte oratoria No, è il lume di Cristo Noi cristiani dobbiamo essere il riflesso Come diceva Agostino, Sant'Agostino Di Cristo Riflesso della luce di Cristo Noi viviamo non della nostra luce Ma della luce che è Cristo Non siamo noi il sole Noi siamo al massimo quell'ombra Che viene in un certo senso generata dalla luce Un'ombra luminosa Perché riflettiamo della luce di Cristo Essere lume per me e per gli altri E quante volte invece io sono tenebra Quante volte io spengo Non solo la luce mia, tra virgolette Che ho in me Ma anche la luce degli altri E questo è grave Mai, mai Diceva un grande poeta Un grande pensatore Un grande uomo di preghiera E anche un uomo che ha vissuto una santità Che dava fastidio Una coerenza evangelica E mi riferisco a padre David Maria Turoldo Che cosa diceva? Lui diceva Che mai occorre uccidere la speranza che è negli altri E cioè la luce che gli altri hanno Mai uccidere la speranza che è negli altri Mai E ahimè Io molte volte la uccido Con il mio egoismo Il mio protagonismo Con il mio non amare le persone Per quelle che sono Così come ci ha detto Papa Francesco Amarle nei loro travagli Essere luce Per le persone che vivono momenti di difficoltà Significa essenzialmente una cosa Significa che io devo aiutare queste persone A saper uscire dal loro travaglio Ma rispettando i loro tempi E rispettando il loro modo di essere E non volendo che l'altro Faccia e sia come sono io Vi aspetto domani Paripio TV Dritto al cuore Ciao a tutti Grazie a tutti